Ciao a tutti da Locarno, oggi ho avuto la fortuna di partecipare al triathlon olimpico in questa stupenda regione e la giornata è stata un grande successo. Sole, dalle prime bracciate fino all'ultima faccata corsa e una pedalata in Valle Maggia che è sempre un capolavoro. Da parte mia ho potuto fare un'ottima gara riuscendo a cogliere la vittoria sul finale. È stata una bella esperienza perché una settimana fa ho corso a Tselamze il 70.3 e le gambe sul finale erano ancora un po' stanche ma molto contento. Live Triathlon Famiglie, Cher Famiglio di Triathlon, cara famiglia del triathlon, un grande saluto a tutti dal Ticino.